Al distretto 13 è giunta l'ora della rivolta. Deve riflettere. Nessuno sopravviverà. In tanti sono pronti a combattere per la resistenza. Combatterai con noi? Certo. Ma solo Katniss li porterà alla libertà. Se noi bruciamo, voi bruciate con noi! Jennifer Lawrence, Philip Seymour Hoffman, Donald Sutherland, Hunger Games, Il Canto della Rivolta, parte 1. Lunedì alle 21, sul 20. Nessuno sopravviverà.